... Il diagonale per la Tonazzo, Diamantini, ex di turno, qui da palleggio, difende ancora Depandis, Joao Raffaele, out, out il gioco con le mani del muro. Barone, Berger, Orduna, Giannotti, fermato dal muro che può ricostruire per i padroni di casa, Randazzo. E quindi Ace torna al massimo vantaggio, l'ex privia, più 5, 21-16, si era formato quel più 5 sul 6-1 e ora arriva il più 6 perché Candellaro firma il 22-16, ancora sul gran servizio di Hernandez. Sì, sta mettendo in grande difficoltà, in battuta, ma dobbiamo dire... Dal 13 pari, 10 a 3 e 7, quasi in cassaforte. Ma vediamo la reazione di Padova, muro ancora, la grande di proprio Candellaro e vagonata di set point per l'ex privia. Qua si invalica... Tiene ricezione, tocco di seconda di Rezzuelo, letto da Balaso, Giannotti, Depandis difende, alza Hernandez, ributta in campo Padova, Depandis, attacco molto positivo da 4 di questa parallela. E poi ci sono... e si vede da questi tre punti in più rispetto a Moffette. Hernandez ancora, grande attacco dal base. Joe Europeo, Berger, Orduna, Chiroga, ancora Tonazzo, Paipa... Bravo, Barone. Mariella. Su Chiroga che riceve bene, gran primo tempo di Averill. Mamma mia. Bella botta, Chiroga, Giannotti. Grande, grande, sempre il muro di Candellaro Randazzo, sempre molto, molto efficace. Con questo muro si chiude 26-24 fra l'esultanza, la grande del pubblico di Moffette, questo secondo set che porta i ragazzi di Cullinelli al 2-0, fra poco per il terzo set. Vantaggio ancora Tonazzo. Questa volta invece ha battuto come voleva battere Joe Rafael Chiroga. Un punto da recuperare per i ragazzi di casa, Hernandez. Mamma mia ragazzi, c'è mezzo e... Buonissima questa difesa. La difesa di Balasso, bravissima a recuperare. Fribol, Molfetta, palla. Bella, bella. Bellissima. Buona la ricezione, primo tempo contrato dai ragazzi di casa. Joe Rafael, grande occasione, non sfruttata. E poi passa Cook. Balasso. Corre Orduna. Cook, contrato. Può ricostruire questa free ball. Joe Rafael tiene Berger, Balasso in palleggio. Giannotti a rete. Non passa sbagliato. Non passa la rete. 22-20. Cook. Tiene Joe Rafael. Hernandez fermato. Chiroga Giannotti. Muro, Molfetta, ancora palla che può essere costruita da Tonazzo. Giannotti, Muro, ma viene fermato da un grande Joe Rafael. Randazzo, Hernandez, Muro, Depandis, Ierrezzuelo, Hernandez. Tocco può ricostruire Padova. Orduna, pallonetto, difeso da Molfetta. E la sfera va giù. Grande azione. in servizio di Leoni Giannotti. Pallone per Joe Rafael. Randazzo difende Molfetta, Depandis, Ierrezzuelo. Sì, buona, buona, buona. E dentro l'attacco di Candellaro. Balasso dalla parte opposta Joe Rafael. e chiude questa partita Joe Rafael. 25, 22, tre quarti punto di Randazzo. Ma la firma finale per Joe Rafael, il brasiliano.